La grandezza dell'Evente Eucaristico Per poter veramente scoprire la bellezza di ogni gesto e di ogni formula della Messa Per dare risposta a una domanda che è quella che ci siamo posti all'inizio Perché è necessario andare a Messa? Perché è importante per un cristiano andare a Messa? E allora cercando di dare risposta a questa domanda abbiamo fatto un percorso meraviglioso nel quale abbiamo cercato di sottolineare un pochino tutte le parti, le formule, i gesti della Messa Piano piano siamo arrivati fino alla preghiera eucaristica di cui già vi ho parlato in parte e vi ho parlato soprattutto di questo invito che fa il sacerdote dicendo in alto i nostri cuori in alto i nostri cuori, questo alzare il cuore, alzare anche tutta la nostra vita è un invito a guardare che non siamo soli, a guardare che c'è, che il Signore ci ha dato la grazia più grande quella di guardare verso il cielo, perché guardare verso il cielo vuol dire vivere con i piedi per terra cioè se io ho veramente uno sguardo verso Dio, verso l'eternità, quello mi permette di vivere la mia quotidianità cioè solo se io ho la certezza della vita eterna, allora posso vivere ogni giorno in pienezza amando, dandomi, senza lasciarmi schiacciare dalle mie paure e questa è la grazia più grande, che l'eucaristia è quell'evento che ci fa assaporare il cielo per assaporare il cielo, come vi ho detto fin dalla prima volta che ci siamo incontrati attraverso questo percorso è necessario che cosa? riconoscere la mia terra cioè riconoscere tutte le cose che per noi, che a noi ci fanno soffrire è lì che io posso lasciare che il Signore illumini e stravolga questa cosa allora questo è molto importante, è molto importante che noi abbiamo questo sguardo verso il Signore infatti il sacerdote poi dice in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore risponde tutta l'assemblea, no? e allora è cosa buona e giusta, è veramente cosa buona e giusta perché? perché è cosa veramente buona e giusta, diciamo anche nel prefazio perché il Signore è stato così buono, che non ci ha lasciato soli che non ci ha lasciato nelle nostre incapacità di vedere la vita ma ci ha dato una porta per questo è molto importante, in questo momento della celebrazione infatti poi segue tutto il prefazio che fa memoria di quello che Dio ha fatto quella preghiera che fa il sacerdote e fa memoria degli eventi meravigliosi che il Signore ci ha dato nel suo figlio Gesù Cristo come Dio veramente è stato buono mandando il suo figlio sulla terra per aiutarci per consolarci per difenderci e per vedere soprattutto che in Lui siamo nuove creature che possiamo vivere in un modo nuovo, diverso questo però non finisce lì infatti in questo momento se volete si squarciano i cieli e vediamo questo evento meraviglioso che sono i cieli che si aprono santo, santo, santo cantano gli angeli, i cherubini, i serafini se volete c'è un movimento tra il cielo e la terra è il momento nel quale la chiesa terrestre, che siamo tutti quelli che partecipiamo alla celebrazione, si unisce con la chiesa celeste è un solo movimento è come se fosse un ballo degli angeli nel quale noi siamo chiamati a entrare nel cielo si muovono cherubini, i serafini, i troni, i potestà e anche sulla terra anche noi siamo chiamati a unirci a quell'unico canto che canta il tre volte santo che canta la fedeltà di Dio che canta che Dio è stato buono e guardate se la chiesa, quello che io vi dico è quello che crede alla tradizione della chiesa non è una cosa, ma molte volte lo perdiamo di vista e guardate se non è così che noi, anche le chiese stesse manifestano la costruzione della chiesa la struttura delle chiese manifesta ciò che si celebra cioè è uno spazio celebrativo, lo chiamiamo così è uno spazio celebrativo che parla che fa presente ciò che avviene veramente in quella celebrazione, nella celebrazione eucaristica e allora per fare questo che cosa fa la chiesa? la chiesa ha costruito, fin dai primissimi secoli ha costruito degli spazi che manifestano questa vittoria sullo spazio e basta pensare all'abside qui dietro abbiamo un abside l'abside, le cupole, la navata sono tutti spazi, se voi fate attenzione che si rompono non è un spazio limitato ma è un spazio che ha che ha altri spazi che si rompono questo per manifestare che noi nell'eucaristia viviamo è uno spazio che è senza nessun limite così come anche nel tempo nella preghiera che fa il sacerdote prega per la chiesa intera perché? Perché l'eucaristia tocca il mondo intero ma prega per la chiesa intera terrestre e celeste anche perché ci ha preceduto perché? Perché si tocca non c'è nessun limite è una cosa impressionante e tutta la chiesa canta questo santo, santo, santo e questo è una meraviglia infatti noi ci sono tantissime chiese che ci rappresentano noi entriamo in tante chiese che nell'abside c'è il cielo aperto vediamo gli angeli, i cherubini e molte volte non sappiamo il perché magari diciamo ah che belle rappresentazioni o magari sono state fatte perché le persone non comprendevano invece c'era una comprensione dell'eucaristia che noi non ci immaginiamo oggi oggi molte volte perdiamo di vista anche nelle nostre chiese nelle nostre parrocchie perdiamo di vista quel cielo che invece è chiamato essere aperto infatti questi absidi che troviamo con le nuvole con gli angeli ci fanno vedere quello che noi celebriamo nella Santa Mesa che molte volte noi stiamo in ginocchio anche nella preghiera eucaristica apriamo, alziamo lo sguardo e vediamo che gli angeli cantano con noi infatti ci sono alcune chiese e questo è molto curioso in cui viene rappresentato il cielo gli angeli, le chiese e poi a un certo punto anche molte volte vengono rappresentati i vizi capitali o i condemoni e questi vizi capitali perché vengono rappresentati sempre in un angoletto? vengono rappresentati perché loro vengono cacciati dalla forza dell'eucaristia infatti l'eucaristia anche a noi ci aiuta tantissimo in tanti limiti molte volte entriamo arrabbiati o intristiti l'eucaristia ha la capacità di modellarci di farci nuovi ma molte volte questi vizi che vengono rappresentati anche in alcuni affreschi è impressionante come non siano rappresentati verso l'esterno della chiesa non vicino alla porta della chiesa ma vengono sempre rappresentati verso in uno spazio che va verso l'altare perché? perché verso l'altare? perché l'altare rappresenta sapete che cosa? rappresenta l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo l'altare è quel è quel luogo nel quale Cristo scaccia il serpente distrugge il nemico e ci rende liberi allora così tutto lo spazio è una meraviglia anche la cupola è stessa noi vediamo delle cupole meravigliose soprattutto a Roma vediamo delle cupole stupende ma la cupola che cosa è? è proprio quel cielo che si apre è quell'invito a alzare lo sguardo è quell'invito a guardare che i cieli si rompono per noi infatti molte volte nella cupola nel più alto della cupola dove c'è la lanterna molte volte è rappresentata una colomba perché? perché è rappresentata una colomba? perché davanti a questo cielo aperto dopo il santo che cosa c'è? quello che i sacerdoti quello che la Chiesa chiama l'epiclesi cioè l'invocazione dello Spirito Santo quando il sacerdote mette le mani così sul pane e sul vino perché sta chiedendo l'azione dello Spirito Santo e da quel cielo aperto da quella cupola aperta che cosa fa? scende lo Spirito Santo e questo scendere lo Spirito Santo è fondamentale perché è lo Spirito che dà vita anche se come dice il Papa Vergoglio lo Spirito Santo è uno sconosciuto molte volte per noi no? e invece lui racconta sempre di quell'episodio che stava in Argentina con i bambini e diceva chi è lo Spirito Santo? sapete che lo Spirito Santo è il Paraclito cioè colui che è vicino a noi il Paracaleo colui che ci è vicino e lui chiedeva ai bambini chissà come si chiama lo Spirito Santo qual è l'altro nome e un bambino dice ah io lo so il Paralitico perché aveva confuso Paralitico allora questo è molto curioso perché molte volte per noi lo Spirito Santo rimane sconosciuto invece lo Spirito Santo è il Consolatore è l'Avvocato è colui che ci difende è di quanta consolazione abbiamo bisogno di quanta difesa ma è colui che agisce con amore è l'espressione dell'amore e nell'Eucaristia noi abbiamo questa veniamo inondati dello Spirito Santo che trasforma il pane e il vino ma trasforma anche tutta l'assemblea tutti noi infatti nella preghiera si dirà che diventiamo un solo corpo in Cristo la grande promessa che cosa è? l'unità l'unità poter essere uno con Dio poter essere uno in noi stessi poter essere uno con gli altri né l'amore né la carità questa è la grande grazia è quello che ci dà la vita e così anche se vi voglio parlare anche di altri parti della struttura della Chiesa c'è l'abside che qui lo abbiamo anche un abside e l'abside è impressionante perché è la tesa cioè volete tutta la dalla navata centrale alla cupola all'abside c'è tutto un movimento meraviglioso un movimento che ci porta verso il cielo verso colui che viene e come noi vediamo anche in questo abside che c'è Cristo rappresentato con la parola io vengo io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo così anche l'Eucaristia ogni Eucaristia è un venirci incontro di Cristo è presenza ma è anche attesa nel senso che anche noi siamo chiamati a gridare vieni Signore Gesù vieni vieni Signore aiutaci come il cieco di Gerico che grida abbi pietà di me perché sente che passa e Cristo passa e arriva come il vittorioso che viene a darci questa nuova vita allora se volete in questo momento è dove si esplode tutto il canto infatti il sacerdote dirà alla fine di questa lunga preghiera anche dirà per Cristo con Cristo la dossologia per Cristo con Cristo in Cristo per dire che è Lui colui che ha fatto l'opera che è Lui che ha agito che è Lui che ci ha liberato allora se volete tutte le strutture delle chiese noi abbiamo un dono grandissimo no perché perché attraverso anche l'ambiente anche la bellezza anche l'arte noi veniamo se volete catapultati in questo evento grandissimo che è l'Eucaristia e in queste parole di consacrazione di cui ancora non vi ho parlato quando Cristo ci invita a dire questo è il mio corpo questo è il mio sangue dato per voi fate questo in memoria di me guardate quello che ci dà Cristo lì è il vero dono noi che cosa crediamo fate attenzione a questo noi crediamo che noi crediamo che Dio nel suo figlio Gesù Cristo sia incarnato cioè noi crediamo che il verbo la parola si è fatta carne nell'incarnazione nell'Eucaristia nell'ultima cena che cosa fa Gesù Cristo lui fa che il suo essere carne diventi parole parola dicendo questo è il mio corpo dite questo fate questo dice questo è il mio corpo cioè fa che la sua carne diventi parola in modo tale che noi quando le ripetiamo viviamo quella parola che si fa nuovamente carne per noi cioè in tutto un movimento che è sempre complicato ma quello che Cristo ha voluto fare è darci la possibilità di sperimentare il suo farsi carne in noi perché a questo noi siamo chiamati a essere cristofori a sperimentare un altro che fa il posto nostro sperimentare l'essere di Cristo in me infatti lui dice fate questo in memoria di me che cosa vuol dire fate questo in memoria di me che voi dovete fare questo prima di tutto dovete sperimentare l'essere di Dio vivere costantemente quel farsi carne di Cristo in noi quel farsi carne che il Signore ci dà la capacità che è sua fate questo volete avere la vita volete vivere veramente in pienezza volete sperimentare l'amore dovete fare questo dovete fare l'eucaristia dovete sperimentare che in me è possibile amare dovete sperimentare che io posso amare in Cristo allora fate questo in memoria di me ma questo fate questo in memoria di me non è solo questo ma è una cosa ancora più grande dice fare questo in memoria di Cristo vuol dire non solo farlo ma diventarlo anche noi non solo celebrare l'eucaristia ma anche noi diventare eucaristia vuoi avere la vita devi fare questo dire questo è il mio corpo darti non cercarti in tutto ma darti in tutto puoi fare veramente puoi toccare veramente il cielo che si apre devi dire questo è il mio corpo dato per voi questo è il mio sangue io ogni volta che celebro l'eucaristia penso a queste parole e dico sono disposto oggi a dare la mia vita a negarmi per amore e in Cristo questo è possibile solo in Cristo ma se il Signore se il Signore ce lo concede vediamo il cielo che è la grazia più grande e questo è quello che io vi auguro veramente di ripetere queste parole sempre e di poter viverle in profondità nella nostra vita grazie a tutti